Birrificio Tribale, Neo Maestro del Gusto, benvenuti a Terra Madre. Cosa significa, cosa vi aspettate dal progetto Maestro del Gusto? Allora, grazie innanzitutto. Era da tanto tempo che speravamo di entrare nel progetto Maestro del Gusto. Oggi è che ci siamo dentro. Per fortuna vogliamo dedicarci anima e cuore a questo che è il nostro progetto, dedicando le nostre energie con fervore a quelle che sono tutte le iniziative che verranno proposte. Cosa significa per un birrificio come il vostro produrre birra artigianale nella provincia di Torino nel 2024? Allora, questo significa sicuramente dover affrontare numerose sfide ancora, nonostante quelle che abbiamo già dovuto superare nel passato, dal Covid in avanti. Noi in realtà siamo aperti dal 2017, quindi nel 2020 eravamo proprio piccoli piccoli appena nati. Ad oggi in realtà siamo sopravvissuti, siamo energici, abbiamo molta voglia di proporci, di creare posti di lavoro e di crescere se riusciremo nel nostro territorio. Ti ringrazio, buona terra madre. Grazie a tutti voi.